Il 21 di marzo sarà un grande appuntamento per l'Italia e per la nostra regione, per l'Emilia-Romagna, perché soprattutto dopo la pubblicazione dell'inchiesta Emilia che ha acceso riflettori su quella che è una realtà che noi come regione conoscevamo da tempo e sulla quale abbiamo operato da tempo, dotandoci anche di strumenti e mezzi normativi e legislativi per affrontare e fronteggiare il crimine organizzato nella nostra regione. Sarà una grande giornata, è importante perché vogliamo dimostrare con una grande partecipazione di popolo a partire da Bologna e da tutta l'Emilia-Romagna, dai comuni, le istituzioni, che questa terra non è una terra di mafia, è una terra ad alta densità e presenza mafiosa come lo è in tutte le regioni del nord d'Italia più ricche e con una maggiore industrializzazione. Ma noi vogliamo dimostrare che questa terra è la nostra terra e che non ci faremo rubare il futuro da nessuno né la speranza. Don Ciotti dice che noi dobbiamo lottare per la verità e la speranza. Noi speriamo ancora e siamo convinti che abbiamo fatto già molto per affronteggiare e creare i filtri più efficaci possibili nell'impedire alla criminalità organizzata di inserirsi nella nostra economia. Questo non è bastato e quindi faremo di più e molto di più ancora, ma lo dimostreremo che questa terra è una terra che sa reagire, è una terra che ha saputo reagire 70 anni fa alla oppressione nazifascista, poi contro lo stragismo e il terrorismo e oggi saprà reagire e combattere con efficacia le infiltrazioni mafiose nel settore dell'economia e nella nostra società e lo faremo per quello che è la nostra competenza, per quello che sono le nostre possibilità attraverso le leggi, attraverso le norme, attraverso una grande mobilitazione popolare, civile e democratica. Grazie